C'è chi dice che come l'RX-78 nessuno mai e che quindi come la prima serie di Gundam non ce n'è. Per me invece alcune serie successive danno un ulteriore spessore all'universo Gundam. Carissimi lettori di fumetti di manga, carissimi follower e amanti anche dei Gundam, benvenuti a questa nuova recensione di questa serie. Dopo aver parlato di Reckon of Mobile Sweet Wars, la serie successiva in ambito fumettistico è quella di Z Gundam. Si seguiva molto pedissequamente con poche altre cose ai tempi, quelle che erano un po' anche le uscite degli anni. E come è successo un po' con la prima serie, questa che usciva in versione manga era in questo caso una versione anche molto compattata e riassuntiva degli eventi che poi avete visto o potreste vedere nella serie di Z Gundam composta da 50 episodi. 50 episodi che qui sono raccolti in appena 6 volumi, 6 volumi anche abbastanza contenuti da un certo punto di vista, sebbene esaustivi perché comunque al di fuori della storia c'è anche qualche piccolo, le definizioni dei vari luoghi, personaggi, cose, chi sono, cosa sono, da dove vengono eccetera eccetera. E' quindi un'edizione comunque interessante, andiamo un attimo a inquadrare quali sono gli avvenimenti di questa serie se non la conosceste o comunque conoscete solo alcune serie di Gundam, più o meno a inquadrare cosa potrebbe avvenire all'interno di questa serie per poi sapervi dire se questi 6 numeri valgono la pena per un appassionato di Gundam, per un lettore di manga in generale e per chi altri. 7 anni dopo la fine della guerra di un anno l'esercito della Federazione Terrestre crea un corpo speciale d'elite denominato Titani per dare la caccia ed eliminare le sacche di resistenza di Zion. La brutalità di metodi terroristici adottati dai Titani per raggiungere i loro scopi fa nascere in risposta due gruppi di resistenza, l'AUG Anti-Hearth Union Group e la sua emanazione terrestre Caraba, guidato dall'ex membro della base bianca Hayato Kobayashi e dal quale farà parte anche Amuro Rei, che affronterà la Federazione in quella che viene chiamata la Guerra di Grips. La serie inizia con Shara Znabul, diventato un membro dell'AUG con l'alias Quattro Bagina, che attacca una base militare dei Titani nella colonia occupata di Green Noah, a Site Set, per raccogliere informazioni sul nuovo prototipo di mobile suite federale, il tipo RX-78 Gundam Mark II. Camille Bidane, un giovane ed impulsivo new type che vive nella colonia, si ritrova coinvolto a suo malgrado ed aiuta l'AUG a trafugare il Mark II. Infine si unisce all'AUG, prima come pilota del Mark II, quindi come pilota del nuovo mobile suite Z Gundam, creato da l'AUG e basato su un'idea di Camille. Lo scontro tra le parti vedrà in un secondo momento l'ingresso in campo di una terza forza, quella di Axis, l'asteroide su cui alla fine della guerra di un anno si erano rifugiati i sostenitori degli Zabi e della restaurazione del Principato di Zion. Sono guidati dalla giovane Hamankar, reggente della piccola Mineva Zabi. Allora, la trama è comunque molto riassunta, forse a tratti anche troppo, rispetto alla profondità di quelle 50 puntate. È vero che grossomodo i principali avvenimenti, tutto quanto, c'è veramente abbastanza tutto, ma non si riesce a focalizzare, non ci sono abbastanza pagine per riuscire a focalizzare le motivazioni, i perché, cosa spinge i personaggi ad agire in un certo modo, perché si giunge a un certo evento. È difficile in questo senso cogliere tutto. E quindi sicuramente è una serie che fatico a consigliare a chi non abbia visto l'anime, perché sarebbe un peccato leggere solo il fumetto e evitare l'anime. Si può fare il contrario, sicuramente è evitabile questa serie perché è riassuntiva dell'anime e là invece succede molto di più, viene spiegato molto di più e c'è molto più carne al fuoco. Non solo, aggiungo questo, comunque gli avvenimenti non sono propriamente come quelli visti nell'anime, così come combattimenti e anche altre cose. I punti di vista, comunque, la scienziatura non segue più diseguamente l'inquadratura e tutto quanto, quello come viene raffigurato nell'anime. È un'alternativa. Però, proprio perché su comunque si vuole replicare tanti combattimenti, ribadisco, è un manga sul Mecha, sul Gandalf, quindi si può comprendere che sia così. A volte però il tratto nel essere concitato in tutta l'azione, a volte anche effettivamente sporco, non sempre definito. Adesso fatico a ritrovare le esatte scene in cui a volte si faceva fatica di intuire esattamente cosa stava avvenendo, qual era il Gundam che stava facendo che cosa. Per carità, ci stanno, è un manga su questo, è fatto un po' anche per questo, però che cosa succede? Dato come è il tratto, non così definito, un po' in un'edizione gigantesca, che anche le tavole non so quanto avrebbe giovato, però si fa fatica a percepire qual è il mobile suite in una scena che sta facendo raffigurare una parte, che sta facendo che cosa, anche perché appunto è in bianco e nero e non da colore, ulteriore aspetto che fa fatica a seguire certi aspetti, così come si fa fatica a capire i piloti dentro i caschi, quali sono le navi da battaglia, è molto più difficile da seguire rispetto all'anime. Questo è anche importante perché se già con l'anime, con tanti episodi, tanto che viene raccontato, si faceva, non dico fatica, però si doveva essere attenti, concentrati, non è un anim da svago, a riuscire a capire bene dopo gli avvenimenti del prima serie, a passare a questi, perché effettivamente c'è stato un qualche cosa che viene accennato, tra l'altro c'è un altro manga che uscirà appunto successivamente, che racconta quegli avvenimenti tra la prima serie e questa, ed è importante perché è una situazione abbastanza nuova, nettamente in evoluzione tra le vecchie due schieramenti, da cui nasce un nuovo, quello dei Titani, che però è quello che diventa poi il più negativo estremista di tutti, mentre prima era stato nella prima serie quello di Zion, adesso invece Zion è ancora estremista da un certo punto di vista, però in realtà non è quello più, insomma è veramente un coacervo di posizioni, di vari schieramenti, e che si evolve anche in questa serie, già è evoluto rispetto allo scenario che avevamo lasciato, rispetto alla prima serie. Quindi in tutto ciò non aiuta il fatto di seguire questo, se non si ha già coscienza avendo visto l'anima. Devo dirvi quindi, se consigliare o meno questa miniserie, sì, può essere anche una miniserie, letta anche a sé stante, come manga, così non è in generale, non è che sia un certo senso completa, e che non permetta di avere un buon dispiegamento dei suoi sei numeri. Forse il rimpianto, o comunque il sentore di mancanza, è più per chi viene proprio appunto dall'anima, che sa quanto poco c'è in questo, rispetto al totale dell'anima. Quindi questa è un po' la differenza. quindi discrete letture a manga leggibili a sé, forse non tutto semplicissimo da seguire, è un po' così, quindi anche in questo caso c'è tanto di meglio di serie Gundam, sia che le leggiate a sé stanti, sia che invece siete appassionati delle serie, da leggere che non questa. E se avete già visto l'anima, non è una serie in versione fumetto imprescindibile, non è come un discorso tipo Origini, che reinterpreta, rinnova, e anche il tratto non è, è sicuramente più appassionante, più bello vederlo in serie tv, assolutamente. Questo la vedo più un po' come sottoscritto, proprio il completista che vuole leggere tutto, anche quello che già la serie Anim fa, anche se è inferiore rispetto. Non che sia un cattivissimo serie, un cattivissimo manga, però non è a livello né dell'Anim, né diverse altre produzioni a tema Gundam. Questo è quanto il mio punto di vista, è per voi completisti, se come al solito ribadisco, volete continuare a seguire tutte le produzioni Gundam, anche in campo manga, le affronteremo tutte in senso cronologico, iscrivetevi al canale, ci si vede ai prossimi video. Ciao, da Viper. Magalità 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 Magalità